Bene, buongiorno a tutti, benvenuti all'ultima conferenza stampa del Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi promossa dall'ufficio stampa Agenzia Stampa NEV. Ringraziamo i giornalisti presenti, Radio Bequita Evangelica che sta mandando in onda questa conferenza sia su Facebook che è in diretta in FM. Abbiamo qui con noi il riconfermato moderatore della tavola valdese, quinto mandato, ci apprestiamo al sesto e molto probabilmente direi al settimo, quindi chiusura mandato ufficiale, la moderatura dura sette anni. Il moderatore della tavola valdese Eugenio Bernardini ha appena concluso il discorso all'Assemblea, al Sinodo, un discorso importante, ricco e carico di significati dopo un altrettanto sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi, ricco, importante e impegnativo. Il sinodo, faccio un breve riassunto, si è aperto domenica scorsa con un'anticipazione particolare, un culto a Chamforan per ricordare l'adesione alla riforma protestante, che tra l'altro quest'anno festeggia i suoi primi 500 anni, cosa non da poco. Ma altrettanto importante quest'anno è anche l'anniversario ai 50 anni del pastorato femminile, quindi il ruolo femminile all'interno della Chiesa riconosciuto a livello appunto ufficiale, donne pastore. Tanti temi in discussione quest'anno, tanti documenti presentati che andranno in discussione al sinodo dell'anno prossimo e tanti documenti anche approvati soprattutto nei lavori di ieri sera, nei recuperi e questa mattina. Vi ricordo brevemente un documento della Commissione Sinodale per la Diaconia dedicato al tema dei rifugiati richiedenti asilo, un importante documento sulla famiglia, quindi alla famiglia plurale, un documento dedicato bioetico direi, dedicato al fine vita come tema e poi davvero numerosi documenti legati a questa Chiesa, a queste Chiese che vivono realmente nello spazio pubblico. Il senso diciamo del discorso di oggi del moderatore è stato molto importante, quello di un nuovo registro spirituale. Si è parlato di ecumenismo, di intercultura, una Chiesa che non deve avere paura, che deve avere coraggio, che deve assumersi le sue responsabilità e lo deve fare appunto nello spazio pubblico. La parola al moderatore Bernardini. Sì, è stato un sinodo che ha affrontato veramente molti temi, ma che non ha sempre dato delle risposte scontate. Cioè la discussione è stata vera, ci sono state delle modifiche importanti, per esempio nel documento sulle famiglie in riferimento alle benedizioni delle coppie al di fuori del matrimonio. Abbiamo avuto una discussione anche molto vivace sul tema del fine vita, in cui abbiamo ribadito delle posizioni che sono assolutamente comuni, ne dico soltanto una per tutti, la consapevolezza che in tutte le questioni legate al fine vita il primo problema oggi è diffondere in modo equo per tutti, in tutto il Paese, le cure palliative, perché là dove si contrasta davvero il dolore nella malattia e nel morire, come si dice, anche le altre problematiche collegate e che portano a richiedere, a pensare in termini di autonazia, di suicidio assistito. Quest'anno ci sono stati dei casi veramente laceranti che sono stati portati all'attenzione dell'opinione pubblica. Ecco, quando c'è un'attenzione e una pratica diffusa e costante sulle terapie antidolore, le cure palliative, questi casi davvero si possono ridurre all'eccezionalità, che però esiste perché le cure palliative hanno comunque dei limiti, allora anche per questa fase così ristretta bisogna comunque prendere delle decisioni. Il nostro dibattito è stato breve perché il documento presentato va alla riflessione delle chiese come è nostra consuetudine, su alcune cose queste siamo tutti d'accordo, su altre tipo come affrontare l'eccezionalità dei casi invece abbiamo con ogni evidenza delle posizioni ancora diversificate e bisognerà vedere se il dibattito che avremo riuscirà un pochino a comporle. Un altro dibattito vero è stato sullo iussoli, sull'immigrazione, sulle cause e sulle soluzioni per affrontare questi flussi epocali. Ieri sera il sinodo ha ribadito con molta determinazione che noi siamo assolutamente a favore del superamento della cittadinanza diciamo per sangue automatica, dobbiamo comprendere come in un mondo, in un'Europa, in un'Italia radicalmente trasformata non solo dai flussi migratori ma insomma dalla realtà di questi ultimi decenni bisogna dare una risposta con lo IUS soli, dopodiché il Parlamento troverà le mediazioni e le soluzioni che riterrà opportuno ma il segnale che l'Italia può essere abitata da persone che non solo sono di sangue italiano ma possono acquisire la cittadinanza è un elemento simbolicamente molto importante oltre che praticamente molto importante e noi abbiamo bisogno anche di simboli, di buone parole perché purtroppo di simboli pessimi, di cattive parole se ne ascoltano e se ne vedono troppe nel nostro paese e anche in Europa. Un sinodo che si è aperto in modo estremamente ecumenico ormai accade da diversi anni, il saluto di Papa Francesco, la visita di Malvestiti, il Vescovo di Lodi, la visita del Segretario Generale della Conferenza delle Chiese Europee, Uttunen, e di ecumenismo avete parlato molto, avete prodotto anche un documento e lei nel suo discorso ha citato anche una parola importante, lei ha parlato di terapia ecumenica. Sì, diciamo pure che la conflittualità tra le Chiese è stata una malattia del cristianesimo. Noi parliamo di noi, quindi non di altri, del cristianesimo d'Occidente. Ci sono naturalmente varie ragioni, adesso non andiamo a fare le indagini storiche che abbiamo comunque fatto per tanto tempo. Oggi penso davvero che si sono create le condizioni per una fiducia reciproca che ci consente di curare questa malattia, di una differenziazione che si è trasformata in conflittualità dura, in sordità. Riprendiamo ad ascoltarci, ma ascoltarci non solo con le orecchie e con la mente, ma ho la sensazione anche con la stima, il rispetto e con il cuore, con il cuore dello spirito. È come se fossimo davvero in una fase di cura. Si tratta di una terapia molto particolare, che possiamo definire ecumenica, che può produrre una guarigione importante. Credo che il mondo se lo aspetti da lungo tempo, in fondo anche i cristiani. Nel corso di questa terapia possiamo intanto cominciare a fare delle cose molto importanti, per esempio dirsi anche le diversità, ciò che ancora fa le nostre differenze, anche all'interno tra l'altro delle singole chiese, ma con uno spirito nuovo estremamente costruttivo. Noi avvertiamo, nella parte cattolica, ma nell'iniziativa di Papa Francesco, la sua lettera, dal di là delle parole, avvertiamo che dietro c'è davvero di più. E anche nei toni dei messaggi che riceviamo a nome della Conferenza Episcopale Italiana, una sincera volontà di confronto, di incontro, di costruzione, insomma di soluzioni comune, anche di collaborazione con questo nuovo registro di spiritualità che avvertiamo. Ci impegniamo in questo e siamo convinti che potrà portare molti buoni frutti, non soltanto per la vita delle chiese, ma anche per la società e per la vita del mondo. Lei lo ha ricordato, l'ecumenismo nasce in seno alle chiese protestanti, su spinta protestante, ma oggi la chiesa valdese, le chiese metodiste valdesi sono anche chiese multiculturali, interculturali. Un'attenzione particolare è stata data a questo tema. Sì, è un tema che attraversa la quotidianità di una parte consistente delle chiese, delle nostre chiese che vivono in quella parte dell'Italia dove è maggiormente presente la componente immigrata, anche di immigrazione di ormai 20, 30, 30 anni. Noi affrontiamo questa quotidianità con una progettualità di incontro, integrazione, ricerca di comprensione reciproca a vari livelli, a livelli di formazione dei giovani, di formazione dei ministeri locali, nell'educazione alla fede dei giovani nelle comunità. Ormai si parla, si canta, si gioca e si apprende in almeno due o tre lingue, dal filippino allo spagnolo ad alcune lingue africane e attraverso le lingue di comunicazione come l'inglese o il francese. Questo ha creato da una parte delle ricchezze importanti, abbiamo preso molte cose, alcuni hanno dichiarato in sinodo che la propria spiritualità è cambiata nel corso di questi anni, però è anche vero che la differenza culturale e quindi anche teologica in questi anni è arrivata anche al punto di verificare la necessità di affrontare con maggiore determinazione le differenze, come vivi la chiesa, come comprendi la famiglia e anche la fede vissuta nella famiglia, i ruoli maschio, femmina, giovane, anziano, con modalità che noi non possiamo interpretare in modo con criteri sbrigativi. Nel documento delle famiglie per esempio è entrata un'espressione che noi prima non conoscevamo e cioè una forma di impegno matrimoniale tradizionale che è una modalità diffusa in Africa molto seria. I nostri fratelli e sorelle africane spesso ci hanno posto la necessità che noi riconoscessimo questa loro tradizione di matrimonio tradizionale, un fidanzamento al cubo, i fidanzamenti di una volta, di quelli che si programmavano e si celebravano. Pensate al cubo molto più importante che non è ancora il matrimonio riconosciuto poi dalle norme, dalle leggi civili eccetera. Noi abbiamo resistito per lungo tempo perché la nostra cultura ci faceva conoscere soltanto le nostre esperienze, le nostre tradizioni. Il documento sulle famiglie non solo apre a quella che è una posizione che noi abbiamo espresso in tantissimi modi frequentemente in Italia, cioè le nostre varie convivenze in modo positivo perché tutto ciò che nella società sostiene l'impegno e la cura reciproca va promosso, sostenuto e riconosciuto perché se noi critichiamo la nostra società individualista poi non possiamo disconoscere tutte quelle forme di familiarità che vanno contro appunto questo individualismo. Beh, anche questo aspetto oggi noi lo cominciamo ad affrontare con occhi diversi perché capiamo che in un modo culturale come quello di molte chiese dell'Africa ci sono in queste tradizioni delle cose che noi dobbiamo comprendere con occhi diversi. poi ci sono anche altri aspetti più critici, noi abbiamo la consapevolezza che siamo in una fase in cui un po' dobbiamo anche avere il coraggio di approfondire e di affrontare questi problemi in modo che ciò che viviamo a livello locale sia rappresentato anche fisicamente nelle nostre assemblee decisionali, più di quanto ora non avvenga. Il nostro sinodo è ancora troppo monoculturale mentre le nostre chiese sono già molto interculturali, molto multiculturali. Questo è un problema che abbiamo segnalato, che abbiamo affrontato e che cercheremo di risolvere. Il sinodo è partito con il culto di apertura del pastore Fulvio Ferrario, decano della Facoltà Vadesi di Teologia domenica scorsa alle 15.30 e questa è stata l'inaugurazione ufficiale. Un forte richiamo alla teologia ma sempre un occhio attento all'attualità. Anche il pastore Ferrario ha fatto un richiamo all'aiuto verso i rifugiati e i migranti in modo concreto. Il sinodo non ha dimenticato la popolazione di Ischia colpita dal terremoto, così come non aveva mancato di fare l'anno scorso in occasione del terremoto di Amatrice in Centro Italia. Un sinodo che si esprime contro il razzismo, contro la xenofobia, che è attento effettivamente ai temi di oggi. Perché questa attenzione? Perché nella comprensione della nostra piccola comunità di fede, quella dell'Unione delle Chiese Metodiste Valdesi, che però noi riteniamo essere un tratto caratteristico, distintivo del protestantesimo, il credente, la comunità. La Chiesa nel suo insieme si percepisce come al servizio della parola, della parola di Dio, della parola che converte e che salva e al servizio del prossimo. Il servizio del prossimo che significa certamente la tradizionale carità, come si dice nel linguaggio cattolico, cioè l'aiuto immediato a chi ha un bisogno impellente, ma anche nell'impegno a costruire percorsi di giustizia ed equità, percorsi di diritti per tutti che consentono il contrasto ai bisogni in modo ancora più efficace. Tutta la tradizione protestante, comunque la si voglia percorrere, ha sempre queste due caratteristiche. Il servizio alla parola, all'annuncio e il servizio al prossimo. Devo dire che questo è un tratto tipico del cristianesimo occidentale, perché anche il cattolicesimo innegabilmente funziona su queste due gambe. Forse la differenza che viene notata dall'opinione pubblica, anche quella più vasta, quella che non sta seguendo questa conferenza stampa, che non ha seguito il sinodo, che non ha letto gli articoli che sono usciti sui giornali su questo sinodo, avverte in noi, quando sente le nostre posizioni, oppure vede i nostri interventi, per esempio nel nostro paese, forse coglie uno stile, un tratto di maggiore vicinanza di linguaggi, di categorie, di preoccupazioni, di modernità, di attualità, diciamo, perché effettivamente questo è un tratto caratteristico del protestantesimo, una capacità di inculturazione nel momento, che non è relativismo etico, ma di inculturazione nel momento, capace forse di comunicare, di parlare in modo più diretto. Certo, noi condividiamo con altri, con la Chiesa Cattolica in particolare, la problematicità oggi di comunicare la fede in Gesù Cristo e di chiamare alla partecipazione alla vita delle nostre Chiese, perché l'indifferenza, l'allontanamento dalle radici cristiane è qualcosa che un po' tutti verifichiamo nella nostra pratica. Una società sempre più secolarizzata, dove anche la Chiesa Cattolica si interroga sulla nuova evangelizzazione, quindi le Chiese sempre più vuote, mancanza di pastori, di preti. Noi quest'anno abbiamo consacrato cinque nuovi pastori, dei quali due donne. Lotto per mille è stato uno degli altri temi importanti, da anche la misura di questa vicinanza alle nostre Chiese, con 514.628 firme per l'otto per mille delle Chiese metodiste valdesi, con poco più di 34 milioni di euro. Questi sono dati importanti che segnano il passo dei tempi, i tempi che avanzano, ma si vede anche una nuova formula, che è quella appunto dell'ecumenismo e delle collaborazioni con la Chiesa Cattolica. Le Chiese valdesi e metodiste stanno collaborando attivamente con, per esempio, per i progetti dei corridoi umanitari con la comunità di Sant'Egidio. Stanno collaborando attivamente, lo abbiamo visto in questo sinodo, con la conferenza episcopale italiana. Sono segnali forti e di unità. C'è bisogno di stare uniti oggi? Sì, e anche molto. Io, quando ho risposto alla domanda di alcuni giornalisti su queste cinque consacrazioni che abbiamo avuto quest'anno al Sino, ad un buon numero rispetto ai nostri numeri, ho sottolineato il carattere qualitativo di queste cinque consacrazioni. due su cinque donne. Il Ministero Femminile continua, delle donne continua a essere vissuto, praticato nella concretezza delle nostre Chiese. E io dico sempre che per noi è stata una grande benedizione. Noi ci abbiamo messo decenni per deciderlo. Eravamo titubanti. E quando il sinodo finalmente, 50 anni fa, ha consacrato le prime due donne pastore, io sono convinto che molti erano incerti. Stiamo a vedere. Beh, oggi, possiamo dire, 50 anni dopo, provate anche voi per credere. Voi, religioni che ancora non riconoscete il Ministero Femminile, voi, chiese cristiane che ancora non riconoscete il Ministero Femminile, provate per credere. Scoprirete che le titubanze, le incertezze, le questioni che ritenete fondate religiosamente, in realtà sono destinate a dissolversi. Perché la benedizione del Ministero Femminile riconosciuta nelle Chiese e nelle religioni fa davvero tanto bene. Noi l'abbiamo sperimentato ormai da 50 anni, possiamo esserne testimoni. In queste consagrazioni abbiamo anche avuto due persone che provengono non dall'ateismo, dall'indifferentismo, ma provengono da una formazione in famiglia cattolica. Uno di questi è anche dal seminario cattolico. Il dato nuovo è che queste persone che hanno fatto un passaggio di casa spirituale, e hanno lasciato una casa ma ne hanno trovato un'altra, sono arrivati alla nostra Chiesa e stanno vivendo questa esperienza di trasloco senza polemica. Noi nel passato abbiamo avuto passaggi tra Chiese e anche ministeri, ex preti che diventano pastori valdesi. Rimaneva questo tratto polemico, come quando c'è un divorzio in famiglia. È difficile con le sconiuge ritrovare serenità. Beh, noi abbiamo visto con questi ragazzi che non è così. Certo, se hanno lasciato quella casa, dei problemi c'erano e li hanno anche dichiarati. Però c'è, d'altra parte, il riconoscimento che arrivando nella nostra comunità, nella nostra casa, non sono ripartiti da zero. Hanno potuto portare tutto ciò che di cristiano, naturalmente, ma anche a loro accettabile, avevano ricevuto e l'hanno portato da noi, dove lo possono vivere meglio. Questo è sicuramente un dato nuovo che ci arricchisce e che segnala appunto questa fase nuova che può essere una fase di collaborazione reciproca in cui possiamo ottenere anche dei risultati impressionanti. Noi abbiamo gettato, così, sul piatto del dibattito ferocissimo che attraversa l'Europa riguardo i rifugiati, le migrazioni, questo piccolo segno dei corridoi umanitari ed è stato, insomma, ha avuto un effetto dirompente perché, e io vorrei ricordarlo, all'inizio ci consideravano dei fuori di testa. È così, vi assicuro, dei fuori di testa. Belle cose, ma voi siete fuori dal mondo. Non esiste. E invece, insistendo, con tenacia, fateci provare. Quante volte ho ripetuto, fateci fare il nostro mestiere di cristiani. Siamo un po' fuori di testa. Non importa, fatecelo fare. E quello che si è scoperto è che governi, non solo il governo italiano, a cui bisogna dire, bisogna riconoscere il coraggio di avere detto il primo sì e di averlo difeso presso le cancellerie internazionali, ma anche presso altri governi, pian pianino, all'ONU, il Papa il 5 marzo del 2016 e altri, insomma, hanno cominciato a capire che forse qualche alternativa alla tragedia, al disastro ci può essere e qual è stato il risultato? Che altri piccoli segni, altri piccoli simboli si sono aperti. In Francia sono già arrivati i primi partecipanti del corridoio umanitario francese, la conferenza episcopale italiana ha avuto l'autorizzazione per un altro corridoio. In Svizzera abbiamo notizia che nelle prossime settimane si dovrebbe decidere se la federazione protestante svizzera col governo svizzero riesce a fare un piccolo corridoio umanitario. Io prossimamente, fra due o tre settimane sarò in Germania dove verificheremo ulteriormente la disponibilità ad aprire anche lì una piccola esperienza. Insomma, stiamo cercando di creare quella inventiva cristiana che potrebbe anche spingere le istituzioni politiche internazionali a trovare delle soluzioni di ben altro peso magari parziali ma importanti per affrontare questo tema che è così grande che non sarà possibile affrontarle dando una sola risposta. Facciamo i canali umanitari, portiamo la pace, facciamo il piano Marshall, tutte cose importanti ma non possono essere fatte una solo di questa perché è talmente grande il problema che bisogna raffrontare tutte le cose insieme sperando comunque che si apporti qualche miglioramento. Ecco, ricordo che tra l'altro a proposito di corridoi umanitari questo progetto promosso dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia insieme alla comunità di Sant'Egidio, Tavola Valdese il 29 è un nuovo gruppo di rifugiati avrà la possibilità di viaggiare in tutta sicurezza con un volo aereo di linea dal Libano e raggiungere l'Italia quindi un'iniziativa lodevole. Adesso darei la parola ai giornalisti ricordo che il moderatore sarà a disposizione comunque a vostra disposizione appena conclusa la conferenza stampa per interviste o domande se ci fosse la necessità di fare domande adesso invece in conferenza stampa vi lascio il microfono. Grazie, Ribetta, Genzia Neve una domanda tecnica per i nostri lettori e le nostre elettrici nel sinodo c'è un metodo decisionale che è estremamente democratico si potrebbe dire veramente una democrazia partecipata allora una curiosità ecco come si svolgono le decisioni sinodali accogliamo eventuali altre domande oppure diamo prego Ivo Blandino di Varsusa Oggi la mia domanda è questa siamo nei 500 anni della riforma è in prospettiva di fare un incontro un happening diciamo tra tutte le chiese evangeliche in Italia sia quelle federate e non federate e la seconda breve quali sono i rapporti oggi con la chiesa ortodossa ad esempio molti anni fa io mi sono accorto che c'erano dei preti dei archimandriti ortodossi che venivano l'inaugurazione del sinodo da un po' di anni non ne vedo più come mai? eventuali altre domande prego Simona Menghini per il sito chiesavaldese.org una domanda più al pastore Bernardini che al moderatore Bernardini abbiamo parlato dei 50 anni di pastorato femminile della strada che c'è ancora da fare nel rendere più visibile e più incisiva la presenza delle donne nelle chiese cristiane noi come valdesi abbiamo già fatto un pezzo di strada volevo sentire però la sua opinione come pastore su una frase pronunciata dal professor Ferrario decano della facoltà che ha fatto un po' di scalpore e cioè la declinazione al femminile dello spirito santo ne hanno parlato un po' volevo sentire la sua opinione altre domande? no allora diamo la parola al moderatore Bernardo come si discute in sinodo e come si discute nelle nostre chiese dal piccolo al grande è il sistema democratico di partecipazione è un sistema regolato disciplinato nel senso che ci sono delle regole sono quelle che poi sono diventate parte integrante della tradizione parlamentare democratica che ci stanno davvero molto a cuore nella tradizione delle nostre chiese è sempre successo così eravamo sul prato di chiamforan domenica scorsa per il culto su quel prato nel 1532 si decise l'adesione della riforma a maggioranza a maggioranza ci fu una minoranza contraria e la decisione fu presa dopo una grande assemblea in cui avevano partecipato i ministri dell'epoca che si chiamavano Barba e le famiglie valdesi all'epoca erano i capofamiglia in rappresentanza delle varie comunità una grande assemblea popolare in cui in modo collegiale si decise il destino il destino della loro vita delle loro famiglie delle loro proprietà prima dell'adesione alla riforma perché erano ancora come diciamo valdesi del medioevo sono potuti entrare in questa tradizione protestante a costo di qualche cambiamento i ministri si sposarono dopo quella data prima vivevano il ministero celibatario per esempio ma trovando in questo protestantesimo tanti così tanti elementi che loro avevano già vissuto nel corso dei secoli che questo passaggio certo non fu facile in ogni cosa ma fu in qualche modo naturale quindi non è che noi oggi viviamo il processo decisionale perché siamo moderni è perché fa parte della nostra tradizione la fede cristiana si fonda sulla chiamata di Dio in Gesù Cristo il battesimo segnala questa partecipazione al ministero la vita di fede le decisioni di una comunità bisogna prenderle insieme secondo regole che bisogna darsi chiunque partecipa ai processi decisionali delle nostre chiese a livello di base intermedio e anche in quello nazionale del sinodo rimane colpito da questo noi abbiamo una lunghissima pratica di decisioni prese insieme che oggi possiamo definire processo democratico però voi dovete ricordare noi dobbiamo ricordare sempre che prima che ci fosse anche soltanto la concepibilità di un sistema non autoritario quindi quello calato dall'alto che diventa invece un processo democratico questa era già la nostra tradizione perché fa parte dei fondamenti di come si organizza la comunità di Gesù Cristo una comunità fraterna in cui esistono doni vocazioni e ministeri ma il principio di autorità è un principio evangelico e non sacramentale e ministeriale è una caratteristica che la si può ritrovare per questo noi siamo in grado di fare delle discussioni in cui a volte niente è dato per scontato in cui a volte anche diciamo le posizioni che si suppone essere maggioritarie poi si scopre essere minoritarie delle vere e proprie sorprese 500 anni della riforma il rapporto con l'arcipelago chiamiamolo così delle chiese pentecostali la domanda se ci sarà una forma di celebrazione anche con questo mondo pentecostale che è indubbiamente molto numeroso anche nel nostro paese diciamo che abbiamo in programma per sabato 28 ottobre a Roma una conclusione di incontri manifestazioni che le nostre chiese faranno per un mese nel mese di settembre nella capitale d'Italia in questo culto finale ci sarà un'importante partecipazione anche di chiese pentecostali ma è vero che oggi il confronto il dialogo con la chiesa cattolica è da una parte più avanti rispetto a quello con questo mondo delle chiese pentecostali con le quali però noi sperimentiamo un dialogo fecondo che non va sottovalutato quest'anno si compiono anche tra i vari anniversari vent'anni del dialogo teologico con la federazione delle chiese pentecostali che è uno dei raggruppamenti più importanti delle chiese pentecostali in Italia con i quali abbiamo sviluppato un dialogo sui punti nevralgici della fede cristiana e anche sulle differenze è un dialogo raro raro nel panorama ecumenico però questo è il punto non tanto di più di questo per quanto riguarda le chiese ortodosse sì effettivamente è così tenete conto che le chiese ortodosse in questi anni sono molto cresciute nel nostro paese per effetto dell'immigrazione hanno avuto anche la possibilità alcune di queste di stipulare un'intesa con lo Stato e di vedersi riconosciuto lo avete notato anche la possibilità di accedere con l'otto per mille siamo in una fase in cui l'ortodossia in Italia suddivisa nei vari patriarcati e quindi anche nelle varie nazionalità si sta un po' organizzando e riorganizzando il dibattito in questo momento il dialogo si sta fissando soprattutto a livello nazionale anche con la chiesa cattolica e per esempio l'incontro di studio il seminario l'assemblea di studio che avremo a novembre ad Assisi a metà novembre organizzato dall' ufficio per l'ecuminesio il dialogo della conferenza episcopale italiana dalla federazione delle chiese evangeliche italiane si terrà quest'anno anche con il patriarcato la rappresentanza del patriarcato di Costantinopoli di Mosca dei copti siriani e di altre rappresentanze ortodosse e lì ci sarà un confronto fra le tre correnti insomma del cristianesimo sul tema delle riforme lo sdoganamento della riforma di Lutero diciamo in Italia ha portato a poter affrontare il tema delle riforme nelle varie chiese cristiane e a riconoscere che le riforme ci sono nelle varie chiese il problema è chiamarle così averne consapevole capire da che cosa sono motivate e dove pensano di andare sarà molto interessante vedere come questo dialogo a tre e quindi con diciamo una complessità maggiore si potrà sviluppare e se potremo apprendere qualcosa gli uni dagli altri c'è ancora la domanda della dottoressa Menghini ecco il professor ferrario ha sicuramente fatto una provocazione quando ha utilizzato nel culto inaugurale l'invocazione alla spirita al femminile alla spirita santa lo ha fatto consapevolmente immagino perché il linguaggio è un segnale importante usare una parola usarne un'altra non è indifferente lo sanno i cristiani che hanno spaccato le parole in quattro perché il professor ferrario ha usato il femminile di spirito intanto perché c'è una lunghissima riflessione nel mondo acculturato della teologia perché ruach in ebraico cioè spirito è femminile e perché sofia in greco è femminile dopodiché lo spirito si è sempre declinato terza persona della trinità si è sempre declinato al maschile perché perché evidentemente è una questione di linguaggio di cultura però colpisce che in greco e in ebraico cioè delle lingue bibliche in realtà esiste questa parte femminile della divinità o della trinità per il nuovo testamento che non può essere nascosta e il dibattito sul femminile nella chiesa nell'ortologia nel linguaggio nell'antirurgia nella spiritualità è un dibattito in corso e quindi qualche piccola provocazione serve anche per aprire il cervello far lavorare credo le celluline grigie del cervello quindi dal punto di vista teologico ho fatto un'operazione del tutto corretta ma certamente provocatoria per il sentire comune d'altra parte noi dobbiamo anche comprendere che esistono queste sensibilità e arriverà il giorno in cui dovranno penso essere pienamente riconosciute intanto vorrei ricordare che tutti i lavori del sinodo sono stati seguiti dagli organi di formazione legati alle chiese valdesi e metodiste quindi il settimanale riforma quotidiano online riforma il sito ufficiale della chiesa valdese l'agenzia stampa nev che cura l'ufficio stampa radio quindi molto materiale disponibile in questi andando a visitare questi organi di informazione cercando tra i loro siti e le loro pagine facebook e new media ci sono altre domande se ne raccogliamo è l'ultima sì sono Laura Caffagnini del settimanale Vita Nuova di Parma volevo chiedere al moderatore lei ha sottolineato e anche altri interventi durante questa settimana il nuovo clima ecumenico con l'avento di Francesco quindi già due o tre anni che in sinodo si avverte questo ed è stato espresso anche l'auspicio che questo cammino possa sfociare in Italia a un tavolo delle chiese cristiane che appunto in Italia ancora non c'è c'è solo a livello locale cosa pensa di questa appunto di questa possibilità secondo lei quale struttura configurazione potrebbe avere e se secondo lei potrebbe essere uno strumento e un aiuto per poter per lo meno iniziare cercare di superare quelle che sono ancora le differenze dottrinali perché nonostante il clima sia cambiato ci si guarda in un modo diverso ci si ascolta si prega gli uni per gli altri però ancora da parte di entrambi o di qualcuno in particolare c'è ancora questa difficoltà ci sono ancora dei nodi dottrinali quindi un consegno delle chiese potrebbe essere uno strumento per arrivare visto che se invece aspettiamo e che diventi il traguardo forse non ci arriveremo mai o chissà quando credo ci sono altre domande vediamo benissimo allora io aggiungerò un'ultima domanda perché rimangono due anni di mandato e quindi quali saranno quali sono le aspettative per questi due nuovi anni di lavoro è stata una delle nostre prime proposte quando c'è stato chiaro che c'era un clima in cui si poteva davvero provare a sperimentare a livello nazionale una collaborazione più intensa è stata una delle nostre prime proposte quella di trovare un'occasione stabile più o meno stabile di confronto soprattutto su alcune tematiche che noi riteniamo di comune responsabilità noi abbiamo avuto un'esperienza che ci ha molto colpito quando più di due anni fa abbiamo proposto alla conferenza episcopale di scrivere insieme una dichiarazione dei cristiani contro la violenza alle donne siamo riusciti nel giro di pochi mesi a giungere a questa dichiarazione a scrivere questa dichiarazione un impegno non chiesto agli altri ma delle chiese per contrastare la violenza contro le donne come cultura ideologia a cui si sono associate anche alcune chiese ortodosse è stata un'esperienza illuminante è stata poi presentata questa dichiarazione al senato noi abbiamo poi continuato a ricordare questo impegno per esempio con la sedia vuota in chiesa con i segnali appunto di quella sedia vuota perché la donna che l'avrebbe dovuto occupare non c'è perché qualcuno con la violenza l'ha eliminata e ci siamo resi conto che se l'abbiamo fatto una volta perché non potevamo farla anche un'altra e lunedì sera Don Cristiano Bettega intervenendo nella serata sui 500 anni della riforma Don Cristiano Bettega è il segretario dell'ufficio ecumenismo e dialogo della conferenza episcopale il direttore ci ha detto che da parte della conferenza episcopale c'è la disponibilità a pensare molto concretamente alla costituzione non ancora di un consiglio nazionale delle chiese che esiste per esempio negli Stati Uniti a livello nazionale in altri posti ma un tavolo ancora informale di consultazione in cui le nostre chiese possono quindi protestanti cattolica ortodosse che intendono aderire possano trovare una facilità di consultazione per vedere di poter dire una parola comune su alcune tematiche penso che nei prossimi mesi faremo una verifica molto concreta di fattibilità questa parola comune che noi potremmo dire credo che all'inizio potrebbe essere intanto una parola di servizio delle chiese nei confronti della società ma tenete presente che il dialogo sulle questioni più strettamente teologiche sta andando avanti non soltanto con i convegni di cui quello prossimo di novembre ma sta andando avanti anche in una molteplicità di iniziative a livello locale sui temi del battesimo della condivisione eucaristica per esempio io spererei che su questo tema davvero ci possano essere delle importanti novità presto perché la comunione la condivisione della cena di Gesù dovrebbe essere il primo obiettivo del dialogo ecumenico obiettivamente e quando ci fu la riconciliazione non solo nei fatti ma anche teologica tra luterani e riformati che erano divisi sulla concezione della santa cena cena del Signore eucaristia nel 1973 la cena è stato un elemento su cui si è dovuta cercare una nuova comunione e la si è trovata quindi io confido che nell'impegno comune di dire una parola cristiana comune nella società si possa trovare anche lo spazio per dare dei segni di creatività teologica di novità che vadano in una direzione di maggiore comunione delle nostre chiese lo sfondo poi è chiaro in lontananza c'è sempre quello dell'unità vera completa di tutte le chiese nell'unica chiesa di Gesù Cristo però quello è diciamo un obiettivo talmente lontano immaginiamo che non può che essere raggiunto attraverso traguardi intermedi quindi speriamo di potervi dare delle buone notizie prossimamente sulla costituzione di questo tavolo diciamo di consultazione che potrà essere sicuramente un'esperienza che ci farà crescere e maturare per quanto riguarda i prossimi due anni c'è una parola molto saggia di Gesù che dice che ricorda che basta ogni giorno il suo affanno e quindi lasciamo che basti a quest'anno il suo affanno e poi parleremo prossimamente però noi sappiamo benissimo che c'è davvero tanto da fare per i cristiani nel nostro paese le auguriamo buon lavoro per questi due anni intensi grazie per averci dedicato il suo tempo ringraziamo i giornalisti presenti in sala Radio Bequit che ha curato la diretta di questa conferenza l'ufficio stampa tutti insomma gli organi di comunicazione che collaborano insieme per dare informazioni e rendere più fruibile questo sinodo delle chiese metodiste valdesi buona giornata a tutti grazie grazie